Ciao, dedicato di Sagrate 2014, ciao Coach Emily! Adesso che possiamo uscire, ho promesso, voi ho chiesto per un po' di testing. Allora, come abbiamo fatto in casa? Adesso puoi andare a parco, a parco, fuori di una casa, chiedi promesso e si trovi un muretto. Perché prima noi non potevamo neanche fare, come abbiamo visto le belle video in America, con i Coach Winnie. Nel nostro box garage, perché non c'era permesso di andare giù. Olmo, basta, i miei cani stanno disturbando la mia registra qui. E adesso possiamo. Allora, semplicemente, per i miei piccolini, facciamo preciso. Prendiamo un cono e mettiamo contro un muro. Comunque, le distanze, le soccorezze dei montanieri, abbiamo anche la nostra scatola qui. Quindi, prendo qualsiasi palla e provo a zeccare. Ricordi piccolini, provo a zeccare giusto, la caviglia forte, no, marshmallow. E in consacrezza, dobbiamo comandare questa palla e dobbiamo zeccare il nostro cono. Perciò, passaggio qui e puoi prendere prima che vieni. E va avanti e avanti. Anzi, io l'ho detto il cono anche se ne vedo. Allora, usi tutti e due piedi e provi di andare forte e preciso. E prendi il cono. Anche la scarpa, anche la roccia. Allora, questa è la nostra salta avanti di quando eriamo in casa. E adesso possiamo essere all'aperto. Seconda prova di questa è eliminare il cono. Posso prendere il choc. Guarda, qui l'ho già fatto. Si mesura la palla e si fa un bel mark there. Allora, con la nostra palla, indivina cosa dobbiamo fare, no? Ogni volta, mi scatto è un po' strano per i miei cani. Comunque sto qui, nessuno entra, questo è il mio discanso di soccorezza. E provo, come abbiamo visto, di passare contro il muro, come i grandi coach winning. Guarda più me. Però dobbiamo sempre provare a zeccare qui, non qua. E possiamo prendere anche un bello ritmo. Usiamo tutti e due i piedi. Inside out side. Vedi che lì non è preso? Difficile. Non va bene? Passa ore, 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 lots of time. Passing and getting that mark. E sempre devi ricevere dientro. Vedi, quello non ho preso, però è venuto qua. Così. Prendi e vai. And stand out to the spatula. Bye everyone, have fun.